Derby d'altura di colori sociali. Il Giulianova torna dopo due turni di stop causa Covid. Torrese è priva di gentile, appiedato dal giudice ed antichi infortunato. Prima del via il ricordo di Danilo Di Vincenzo nel 25ennale della tragica scomparsa. Poi Mario Giacchetta insieme ai suoi highlights e il montaggio ci racconta lo sviluppo della contesa. Partiamo dal sedicesimo corner. Cerasi prova il tiro dalla distanza che si perde fuori dallo specchio. Insiste il Giulianova al ventunesimo con Persiani pescato in posizione regolare. Prova la soluzione in proprio che però va in orizzontale. Seconda metà di parziale che va in mano agli ospiti. Al ventiseiesimo è Restaneo che viene pescato libero sul versante sinistro. Un bel collo pieno che va di poco lontano dallo specchio della porta. Quattro minuti dopo è la volta di Mastrilli che chiama in causa Bocca Nera direttamente da calcio da fermo. Nulla di più e tutti a bere il classico tè caldo. Ad inizio di ripresa 41 secondi bastano al Giulianova per trovare la via della rete. Con Buonavoglia che raccoglie una palla in area ed insacca in diagonale Abate. Due minuti dopo a dire il vero sì se ha la possibilità di bissare il raddoppio ma trova l'ostacolo da corta misura che gli impedisce la realizzazione. Al settimo l'episodio che un po' gestisce la gara della Torrese. C'è il secondo giallo per Bup per fallo su Persiani e conseguente Rosso. Torrese quindi che giocherà da lì in poi in dieci uomini. Al minuto 21 festa ha l'occasione sotto misura di cogliere il pari occasione che sciupa in maniera incredibile. 15 minuti dopo è il momento di Sissè che prima coglie l'esterno del palo e poco dopo trova lo spiraglio giusto per battere Abate. Ma la Torrese non è mai doma. E così al primo dei cinque minuti di recupero sciarretta rovina su Di Federico per Castelli e calcio di rigore che Di Nicola trasforma. La gara si riapre e si chiude lì. Troppo poco tempo per gli ospiti per impattare. Resta la soddisfazione di aver segnato il primo gol in casa alla vicecapolista. Allora, a tiro di Ridolfi una vittoria. Nel secondo tempo c'è stato questo gol di Buonavoglia. Un'apertura di primo tempo buona. Poi le gambe sono venute un po' a mancare. Finale col giallo con questo calcio di rigore. Però poi non c'era più tempo per la Torrese. Sì, hai detto bene. Siamo partiti bene, come l'avevamo preparata. Abbiamo incontrato la squadra che sapevamo di incontrare. Anzi, faccio i complimenti alla squadra avversaria e alla società perché è una società sana che oramai è una realtà in Abruzzo da tanti anni. Però noi volevamo vincerla. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel finale di primo tempo. Non so se è dipesa dalla conduzione fisica o da un blocco mentale che ci poteva stare dopo essere stati fermi sette, otto giorni. Però poi nel secondo tempo ci siamo aggiustati, l'abbiamo sbloccata, abbiamo raddoppiata. Abbiamo avuto anche qualche palla goal per chiuderla. E poi purtroppo per errori di gioventù, chiamiamoli così, l'abbiamo riaperta. E avete subito il primo goal interno. Abbiamo subito il primo goal interno. Non lo volevamo assolutamente subire. Anche per come è venuto. Io dico sempre che una squadra giovane fa tesoro degli errori. Quindi è un altro tesoro che ci mettiamo dentro. Speriamo di non ripeterlo più perché una gara chiusa sul 2-0 in superiorità numerica non si può assolutamente riaprire. Mister Cristofari, un primo tempo a metà, poi il goal, ma non avete mollato nonostante in dieci. Anzi, sull'1-0, Festa si è divorato il goal del pareggio. Sì, queste sono un po' le caratteristiche della mia squadra. Abbiamo fatto un approccio alla gara non proprio all'altezza della situazione. Sapevamo che il Giulianova sarebbe partito forte perché magari viene da qualche giorno dove non ha giocato e quindi aveva energie fresche. Però alla lunga, secondo me, avrebbe un po' pagato questa cosa qui. Poi la squadra pian piano ha preso coraggio, abbiamo preso metri, siamo entrati con più insistenza nella loro metà campo. Abbiamo creato 4-5 situazioni importanti per poter far gol. Però insomma, il primo tempo si è chiuso così, il secondo tempo, il goal dopo 30 secondi e l'episodio dell'espulsione hanno completamente girato l'inezia della gara. Dispiace perché sull'episodio dell'espulsione, secondo me, è vero che l'avemenza del mio giocatore è stata molto importante, però ha preso nettamente il pallone. Dispiace perché rimanere in dieci per tutto il secondo tempo, poi abbiamo cercato di creare, come dicevi tu, l'occasione di di festa è stata clamorosa. Però ecco, do merito alla squadra di non essersi disunita, di averci creduto fino alla fine, nonostante eravamo in dieci. Non usciamo assolutamente ridimensionati, ci fa ancora più consapevolezza della nostra forza, continuiamo a lavorare, cerchiamo di fare queste ultime due partite prima della sosta. Grazie, Ministro.